L'appartamento di Pirandello, situato in un villino costruito nei primi anni del 1900 nell'allora via Alessandro Torlonia, in una zona di Roma immersa nel verde e che ricorre in numerose pagine pirandelliane, è costituito da un ampio soggiorno studio, da una camera da letto e da una terrazza. L'arredo è quello originale, risale al 1933 quando lo scrittore qui si trasferì al suo rientro in Italia, dopo gli anni trascorsi a Berlino e a Parigi. Gioriello vero e proprio della collezione sono i circa 2000 volumi appartenuti allo scrittore e i numerosi manoscritti relativi a poesie, romanzi e drammi. Corrado Alvaro così ricorda il verde che circonda la casa. Nel mezzo dello studio c'era un divano con le spalle e una grande vetrata che dava a destra in un giardino. Il giardino era uno scenario vicino di lauri e di cipressi, ma oltre a questo verde perenne e grave, che appena imbiondiva al sole di primavera, ci doveva essere qualche grande albero che perdeva le foglie, un platano o una magnolia. Ricordo bene, a certe stagioni, quel fruscio. È strano che questo fruscio faccia parte dei miei ricordi su quello studio e questo sfogliare sia trasferito in un parco anziché fra le carte del letterato. Parte della mobilia, in stile fiorentino, risale al 1910 e proviene da precedenti abitazioni dello scrittore. Una scrivania, due librerie a vetrine, due savonarola. Acquisti successivi furono invece il grande divano, le poltrone, una seconda scrivania, alcune scaffalature e l'intera camera da letto, in stile razionale. La biblioteca comprende, come ho detto, circa 2000 volumi appartenuti allo scrittore. Lo studio conserva inoltre gli oggetti d'uso, compresa la piccola macchina da scrivere portatile, divenuta un inseparabile strumento di lavoro. Tra i quadri figurano quattro opere del figlio Fausto. Inoltre, numerosi sono i manoscritti autografi, poesie, romanzi e drammi. Lo studio, oltre ad essere il luogo della scrittura, nei primi anni della permanenza a Roma, Luigi Pirandello portava a compimento Pensaci Giacomino, e così è se vi pare. Era anche il luogo di conversazione e ritrovo. Il divano e le poltrone accoglievano i suoi incontri con i familiari e con le personalità a lui vicine, tra le quali Silvio D'Amico ed Edoardo De Filippo. Dalla luminosità e dall'ampiezza dello studio si passa alla sobrietà di una stanza da letto, dalle linee essenziali, con un terrazzo dal quale allora si poteva scorgere il parco con i pini di Villa Torronia. Gli abiti, i cappelli, il bastone, la divisa della Reale Accademia d'Italia, sono ancora conservati nella stanza nella quale il 10 dicembre del 1936 Pirandello morì.